Ciao a tutti voi da Rosi e benvenuti a questo appuntamento con la nostra vetrina dell'auto e con Autopavia. E giuro non ci siamo messi d'accordo, io e Martina, responsabili da marketing, ma siamo tutte e due in rosa. Esatto, visto siamo super primaverili oggi. Assolutamente super primaverili e anche le offerte di primavera, magari vi viene voglia di cambiare la vettura, primavera viene sempre voglia di cambiare qualcosa, rivolgetevi all'Autopavia. Esatto, venite a trovarci che noi siamo qua ad aspettarvi. Prima di tutto ciao Rosi, che mi sono dimenticato di salutarti prima. Benvenuti in Autopavia, noi siamo una concessionaria del gruppo FCA, adesso è diventato Stellantis, quindi dobbiamo cambiare nome anche noi. Presentiamo i marchi Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Fiat Professional. Il nostro showroom si trova nel cuore della città di Pavia, città universitaria bellissima, che vi consigliamo di venire a vedere, a visitare e con l'occasione perché non passare a trovarci. Siamo appunto nel cuore della città, facilmente raggiungibile la nostra concessionaria, sia dalle tangenziali che a piedi dal centro città. Disponiamo non solo della vendita, ma anche dell'officina e magazzino ricambi, che potete raggiungere comodamente passando dal retro della concessionaria, che abbiamo un vasto parcheggio interno, dove appunto trovate tutti i nostri servizi. Abbiamo anche un grandissimo centro assistenza, magazzino ricambi e centro revisioni, quindi vi seguiamo dall'inizio alla fine dell'acquisto della vostra vettura, fino a tutti i servizi post vendita, quindi se volete venire a trovarci ci sarà un servizio completo dalla A alla Z per tutte le vostre vetture, sia nuove che usate appunto, che volete acquistare da noi. Hai fatto bene a sottolineare il parcheggio perché in effetti essendo una via abbastanza centrale non se ne trova, ma non abbiate nessun tipo di problema lasciando sulla destra la concessionaria, girate a destra e trovate subito. Ebbene sì, 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 è molto facile raggiungerci appunto, il parcheggio interno è proprio una strategia giusta, perché davanti è impossibile trovare parcheggio. Perfetto, così potrete entrare con tutta calma, non avrete nessun tipo di fretta per vedere tutte le offerte. Tutti i nostri prodotti e le offerte, le promozioni che abbiamo questo mese, gli incentivi statali, soprattutto sull'elettrico, infatti la 500e è proprio il nostro fiore all'occhiello di questo periodo, una bellissima vettura appunto 100% elettrica, la prima city car di Fiat che vi consigliamo di venire a vedere e provare assolutamente su strada, perché è veramente un gioiellino con un sacco di caratteristiche che devono essere testate dal vivo. Assolutamente e come hai detto giustamente tu, può godere ancora degli ecoincentivi statali, perciò approfittatene insomma. E a questo punto Martina, noi ci rivedremo in chiusura di trasmissione, andiamo a parlare anche di vetture a chilometri zero, aziendali, usate, insomma tantissime proposte. Bene, le indicazioni per arrivare qui le avete avute da Martina, adesso invece da Marco Ghirardelli, responsabile dell'usato, avrete le indicazioni di che cosa potrete trovare e c'è veramente una marea di occasioni. Vero Marco? Certo, grazie. Buonasera a tutti, cominciamo col presentarvi un po' di vetture d'occasione. Partiamo da una vettura aziendale che è una 500X Multijet, 120 cavalli, modello Sport. È una vettura aziendale con solo 7.900 chilometri e viene 20.900 euro. Un bellissimo colore grigio opaco. Passiamo ora ad una Peugeot 308 Station Wagon, una vettura con il cambio automatico, 150 cavalli, del 2015, 11.250 euro, una vettura che ha solo 92.000 chilometri. Andiamo ora a vedere una tipo. Passiamo ora a una motorizzazione benzina. Anche questa è una vettura aziendale nostra, del 2020, con pochissimi chilometri, anche questa 6.500 chilometri, e viene 14.800 euro ed è un 1.400 benzina. Praticamente nuova, Marco, 6.800 chilometri. È un allestimento Lange, quindi anche bella accessoriata. Vediamo ora qualche veicolo commerciale. Abbiamo questo Fiat Doblò Cargo 1.300 multijet con 130.000 chilometri. Viene 7.950 euro. Solo pochi chilometri per l'anzianità che ha, perché è un 2015, e il prezzo che ho indicato è IVA compresa. Altro Fiat Doblò, questa volta un 1.600, 105 cavalli, anch'esso del 2015, 119.000 chilometri, 7.900 euro, sempre IVA compresa. Il talento è stato venduto questa mattina. Passiamo ora a una Fiat Tipo Station Wagon 1.600 multijet, allestimento Lange, del 2019, 42.000 chilometri, 13.700 euro. Bellissima Audi A4 Avant, 2.000 turbodiesel, 122 cavalli, del 2016, macchina con circa 100.000 chilometri, 98.000 per l'esattezza, però in ottime condizioni. Una bellissima Giulietta 1.600 multijet, 120 cavalli, del 2018, solo 60.000 chilometri, 11.900 euro. Ora una vettura proprio per gli appassionati di Alfa Romeo, una Giulia 2002 turbodiesel, 150 cavalli, allestimento Super, cambio manuale, 6 marce, del 2017, con 79.000 chilometri, 19.900 euro. Passiamo ora a un'utilitaria, 500, 1.200, 69 cavalli, allestimento Pop, una vettura del 2019, è una vettura nostra aziendale, 17.000 chilometri, 9.800 euro. Vediamo ora una Ypsilon, una rarità, 1.300 multijet, 95 cavalli, allestimento Opening Edition, del 2013, 113.000 chilometri, 8.400 euro. Altra utilitaria, una Ypsilon 1.2, 69 cavalli, allestimento Gold, del 2020, 13.000 chilometri, 11.200 euro. Vediamo ora una bellissima Peugeot 208, 1.4 HD, 68 cavalli, del 2015, solo 48.000 chilometri, 8.450 euro. Vediamo ora una Mazda CX-5, 2002, diesel, 175 cavalli, 4 ruote motrici, cambio automatica, modello Exclusive, del 2017, con solo 43.000 chilometri, 24.900 euro. Vediamo ora un'utilitaria, una Punto Street, 1.2, allestimento Street 5 Port, del 2018, con 58.000 chilometri, viene 7.900 euro. Vediamo ora delle chilometri zero, sono delle Lancia Ypsilon, modello ibrido, 1.070 cavalli, ne abbiamo diverse, di diversi colori, tutte immatricolate questo mese, a partire da 12.600 euro. Interessante anche la motorizzazione ibrida. Certo, l'ultima motorizzazione disponibile, con motorizzazione ibrida. Torniamo in casa Alfa Romeo, vediamo questa bellissima Stelvio, 2.2 turbodiesel, 210 cavalli, allestimento Executive, cambio automatico a 8 rapporti, Q4, quindi integrale, del 2018, molto accessoriata, viene 32.500 euro e a solo 62.000 chilometri. Ancora in Alfa Romeo, con una Giulietta, chilometri zero, 1.6 multijet, allestimento Sport Tech, un allestimento con una bellissima autoradio, con retrocamera, e viene 18.900 euro, è una chilometri zero, come dicevo, del 2020. Vediamo ora questa Jeep Renegade 1.6 multijet, 120 cavalli, allestimento Limited, con cambio automatico, un bellissimo colore, pochi chilometri, 22.200 chilometri, il 2019 viene 21.600 euro. Rimaniamo sullo stesso genere, quindi piccolo SUV, una 500X 1.4 benzina, 140 cavalli, allestimento Lange del 2017, 70.000 chilometri, 13.950 euro. Sempre 500X, questa volta un allestimento City Cross, motorizzazione, 1.000 benzina, 120 cavalli, del 2019, 22.000 chilometri, 16.290 euro è il prezzo. Torniamo ora con Alfa Romeo, un'altra Stelvio, 2002 turbodiesel, Executive, 210 cavalli, Q4, cambio automatico, 8 rapporti, a un chilometri zero, del 2019, e viene 43.900 euro. Ancora un Astelvio, chilometri zero, è un allestimento Sprint, 190 cavalli, cambio automatico, 8 rapporti, Q4, ben accessoriata, 48.900 euro. Ecco un'altra utilitaria, una Panda 1.2 allestimento Lange, del 2019, 22.000 chilometri, 9.700 euro. Ecco la piccolina, 500, cilindrata 1.000, 70 cavalli, motorizzazione ibrida, chilometri zero, anche di queste ne abbiamo diversi colori, a partire da 14.200 euro. Fiat Tipo, 1.6 multijet, 120 cavalli, allestimento Lange, con cambio automatico, del 2017, 70.000 chilometri, viene solo 10.900 euro. Vediamo questa bella smagliante Panda rossa, è una 1.000 chilometri zero, 70 cavalli, motorizzazione ibrida, allestimento Easy, anche di questa tipologia ne abbiamo diversi colori, a partire da 11.700 euro. Ora c'è una 500L, 1.3 multijet, 85 cavalli, allestimento Popstar, del 2014, 113.000 chilometri, 7.900 euro. Ancora una Fiat Panda, 1.2, 69 cavalli, allestimento Easy, del 2013, 89.000 chilometri, 5.950 euro. Ecco una 500L, chilometri zero, è una motorizzazione 1.4 benzina, 95 cavalli, allestimento Urban, del 2020, come immatricolazione, 14.900 euro. Ecco ora una 500, 1.2, 69 cavalli, allestimento Lange, del 2018, con 38.000 chilometri, viene 9.700 euro. Ecco ora una rarissima Alfa Romeo Mito, 1.3 multijet, 85 cavalli, quindi guidabile da neopatentato, del 2015, con 108.000 chilometri, 7.900 euro. Ancora una 500, 1.2, 69 cavalli Lange, del 2019, 28.000 chilometri, 10.450 euro. Vediamo una Tipo Station Wagon, 1.6 multijet, 120 cavalli, allestimento Lange, del 2019, con 28.000 chilometri, 13.700 euro. Ora una Tipo 5 Porte, allestimento Mirror, 1.3 multijet, una vettura nostra aziendale, del 2019, con 14.700 chilometri, a 14.200 euro. Torniamo a vedere una Kilometri Zero, una 500X, motorizzazione benzina, 1.120 cavalli, City Cross, a 18.500 euro. Ora un'altra Tipo, questa volta una Kilometri Zero, Station Wagon, allestimento Easy, a 16.900 euro. 500L, 1.6 multijet, 120 cavalli, allestimento City Cross, del 2019, con 28.000 chilometri, a 15.900 euro. Un'altra 500L, questa volta una 1.3 multijet, 95 cavalli, allestimento Urban, con 24.000 chilometri, del 2019, a 12.950 euro. 500X, 1.120 cavalli, City Cross, chilometri zero, 18.300 euro. Lancia Ypsilon, 1.269 cavalli, allestimento Gold, del 2020, 7.900 chilometri, 11.550 euro. Ancora 500, 1.269 cavalli, allestimento Lange, del 2020, con 10.200 chilometri, 11.750 euro. 500L, multijet, 1.395 cavalli, Urban, una vettura nostra aziendale, 24.300 chilometri, del 2019, 13.450 euro. Altra vettura benzina, Renault Clio, 900 TCE, 90 cavalli, allestimento Moschino Zen, del 2019, 46.000 chilometri, 11.190 euro. Queste vetture che vi abbiamo presentato e molte altre le potete vedere direttamente anche sul nostro sito. Non esitate a contattarci o a venire a trovarci. È possibile anche con appuntamento eventualmente effettuare una prova su strada. A presto, vi aspettiamo numerosi. Rosi, purtroppo ci dobbiamo salutare, però vi aspettiamo qua da Autopavia con tantissime offerte, sia per aziende, partite IVA, privati. C'è veramente l'imbarazzo della scelta. Anche per Alfa Romeo abbiamo tantissime soluzioni che fanno proprio al caso vostro. Quindi vi aspettiamo e buona serata a tutti, anche a te Rosi. Grazie mille Martina, buona serata anche a te, buona serata a tutti voi. Ciao. Ciao.